Questa è la domanda di Dario De Prisco che ringrazio. Si un paio di occhiali entra io li metto anche con la custodia e poi si può chiudere lo sportellino. Anche senza la custodia provo a mettere gli occhiali. Secondo me è meglio con la custodia perché almeno nelle curve non dovrebbero sbattacchiare, mentre così resta un po' di spazio tale per cui frenate, accelerazioni, gli occhiali possono sbattere. Grazie